Per la prima volta nel Parco archeologico e nel Museo di Festum, la sedicesima borsa mediterranea del turismo archeologico. Salone espositivo con 30 paesi, workshop con 40 buyers esteri, conferenze, orientamento alla formazione e al lavoro, laboratori e un viaggio nell'antichità con la mostra di archeologia virtuale. Da giovedì 14 a sabato 16 novembre dalle ore 10 alle 19 e domenica 17 dalle 10 alle 13. Visita il sito www.pmta.it